La compagnia di Gioia Tauro ha oggi eseguito otto misure cautelari, rispettivamente quattro in carcere, due con divieto di dimora e due con obbligo di dimora e contestuale obbligo di presentazione della polizia giudiziaria, nei confronti di otto persone, in particolare due di esse straniere originari del Gambia, mentre le arte tutte di nazionalità italiana. L'attività iniziata nel novembre 2019 e conclusa nel giugno 2020 ha permesso di circostanziare almeno 55 episodi di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, sia nei pressi della tendopoli di San Ferdinando, sia nelle campagne di proprietà di uno degli indagati, poi tratto in arresto, dove lo stesso nascondeva lo stupefacente. Per quanto riguarda la tendopoli ministeriale è emerso come un operaio delle ditte di pulizie di nazionalità gambiana e una donna italiana che lavorava al front office della tendopoli ricevessero dello stupefacente da parte di un altro gambiano e contribuissero all'attività di spaccio all'interno della tendopoli e nei dintorni di essa, sia nei confronti di cittadini stranieri che nei confronti di italiani. L'attività di indagine è stata svolta mediante i servizi di osservazione, controllo e pedinamento delle otto persone indagate, nonché le intercettazioni telefoniche, ambientali e videosorveglianza delle aree di spaccio individuate nella tendopoli di San Ferdinando e nelle campagne del comune di San Ferdinando. Grazie a tutti.